Grazie a tutti. Noi sono sicuramente molto gravi e poi andiamo in studio, una volta che la manteremo piacere, mi pare anche successo. Stasera in quale motivo la guida biblioteca? Questa sera c'è la partenza dei corsi digitali che l'amministrazione comunale ha promosso con le politiche giovanili del comune per avviare ragazzi alle nuove professioni dell'era digitale. Che cosa vi aspettate dagli allievi che verranno qua a frequentare il corso? Ci aspettiamo che sia probabilmente perso nuove professioni e possano magari poi successivamente svilupparci anche un'attività. Da cosa nasce questo evento? Questo evento nasce dalla necessità di formare i ragazzi e introdurli nell'era digitale. Perché oggi giorno l'era digitale è così ricercata? L'era digitale è di fondamentale importanza perché le aziende possano farsi conoscere e possono comunicare tutto ciò che vogliono dire nel sul territorio e non solo. Da cosa nasce la partnership con il comune di Forte dei Marmi? L'iniziativa coinvolge praticamente quattro aziende del costo locali che curano ognuna di esse un settore diverso e noi in particolare lo sviluppo di siti web. Le elezioni oltre stasera 28 gennaio quando si svilupperanno? Le elezioni si svilupperanno tutti lunedì dalle 21 alle 23 e tutti mercoledì dalle 19 alle 21. Che cosa vi aspettate dagli allievi? Speriamo di trovare ragazzi vogliosi e che si dimostrino... Più che vogliosi, volenterosi. Volenterosi e che si dimostrino intraprendenti in quello che noi cercheremo di trasferire loro. Un vestito che si adatti allo scheletro che lui ha costruito. Questo vestito deve sempre rispecchiare tutto quello che ha precedente. Grazie. 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 Grazie.